A me piace molto, però una cosa volevo dirla, ho parlato ieri con Jeddah e mi ha detto Giuliana però questa cosa che dicono che i miei genitori non sono d'accordo non è assolutamente vera e vi posso dire per certo che la mamma di Jeddah è molto contenta e manda messaggi di incoraggiamento e ti fa vera e ti fa Jeddah Giuliana è nate giovane che neanche li aveva visti i film di mio papà probabilmente Grazie 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 Grazie